bella ragazzi oggi con questo nuovo video oggi vedremo come sbloccare la modalità incubi allora questa modalità può essere sbloccata in due modi uno è finire la campagna ok e l'altro è invece usare un codice e oggi vi farò vedere come applicare quel codice ma voi mi chiederete cos'è la modalità incubi è una storia di zombie esatto infatti se facciamo selezione missione la storia praticamente la stessa solo che sarà col contro gli zombie infatti per esempio il primo di questa di questa storia è ipocentro al contrario della storia originale è black ops infatti qua c'è scritto torna all'inizio torna all'inizio di tutto nel anno 2070 sei al coalescence nella zona di quarantena anti zombie di singapore e qua ovviamente va avanti divisione anti zombie top secret top secret top secret allora come sbloccarla andiamo in campagna quindi questa cosa funziona solo su pc playstation 4 e xbox one perché su xbox 30 e playstation 3 non c'è la campagna o andate sulla safe house come per dead ops 2 che tra l'altro ho fatto un video su come giocare quindi se non lo sapete ancora andatevelo a vedere e ho entrato nella safe house oppure fate seleziona missione e facciamo nuovo mondo entriamo avviamo la partita vi dico anche che questa cosa può essere fatta solo col joypad quindi anche su pc come per esempio in questo momento lo dovete fare col joypad perché sulla tastiera non si sanno ancora i tasti devono ancora trovarli quindi comunque vi terrò aggiornati appena li trovano e e quindi e quindi niente dovete aspettare se no attaccate il joypad della 360 dell xbox one o meno io conosco solo questi due e andate praticamente in archivio dati vedete qua c'è codex tag clan e tutto il resto andate su tag clan e emblemi e poi andate sopra dove c'è il simbolino con questo simbolino si può attivare anche dead ops 2 quindi io ovviamente vado indietro ma stando sul simbolino voi tenete premuto r allora per il joypad della playstation 4 r2 e poi schiacciate quadrato e triangolo per xbox one tenete premuto rt e poi schiacciate x e y quindi proviamo a farlo schiacciate quadrato triangolo e vi apparirà questa cosa guardate che figata a questo punto dovete solo scrivere dream scusa cazzo devo rifarlo ecco dream scusate land dream land ok a questo punto date su ok e date ok vedete che sparirà andate indietro andate indietro uscite e assolutamente verrà sbloccato quella modalità incubo senza assolutamente completare la campagna infatti come avete visto io non l'ho fatto sono giusto la terza missione e quindi e ce l'ho già quindi niente ragazzi per questo video di tutto vi ringrazio per averlo visto e in questo adesso tornate indietro vedete la modalità incubi quindi tra l'altro è anche cooperativa quindi a me non dovrebbe essere sì perché c'è la capacità pubblica quindi anche cooperativa quindi potete farla tranquillamente con i vostri amici comunque detto questo invito a lasciare un like un commento se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti